salve salve eccoci qui a questo approfondimento operativo col titolo motivazione postuma in giudizio possibile è l'analisi di una sentenza del consiglio di stato abbastanza recente che affronta per l'ennesima volta questo è un tema pluridecennale diciamo centenario del diritto amministrativo ma che è tornato in auge recentemente in virtù di alcuni cambiamenti che adesso analizzeremo allora partiamo dalla sentenza 5592 del 2023 sezione quarta del consiglio di stato vediamo qual è lo sviluppo della vicenda l'oggetto del ricorso è la determinazione con cui un comune nel 2017 aveva diffidato una ditta a non proseguire l'attività di realizzazione di quattro torri eoliche in quanto i quattro aerogeneratori appartengono allo stesso soggetto e quindi diciamo che il ragionamento era essendo dello stesso soggetto che ha presentato quattro pratiche distinte in realtà la pratica era una sola cioè i quattro generatori dovevano essere sommati ai fini della valutazione amministrativa e quindi si entrava in una disciplina diversa perché i watt diciamo di potenza generata portavano all'applicazione di una norma diversa il soggetto aveva presentato quattro domande distinte che rientravano sotto i limiti il comune ritiene che invece devono essere sommate il caso è abbastanza chiaro e anche semplice nella sua nei suoi elementi oggettivi il provvedimento rappresenta l'esilo sviluppo procedimentale che il consiglio di stato sintetizza così 16 dicembre 2016 la ditta presenta quattro scia per l'avvio delle attività nei 30 giorni non viene dato riscontro la scia quindi non viene bloccata come scia edilizia 20 febbraio 2017 decorsi 30 giorni il comune diffida l'impresa dall'intraprendere i lavori la ditta propone ricorso al tar della calabria per violazione delle norme in quanto i aerogeneratori ciascuno contraddistinto al diverso codice pod come generatore di corrente dal singolo punto di pelevo si riteneva non rientrassero nella disciplina della soglia superiore tar calabria respinge il primo motivo di ricorso mentre accoglie una parte della motivazione relativamente alla vizio del provvedimento amministrativo che non ha tenuto conto che comunque anche la somma degli aerogeneratori ricadevano sotto il limite della procedura semplificata e quindi annulla la diffida per mancanza di motivazione condanna l'amministrazione al pagamento delle spese e quindi da la possibilità all'amministrazione di proporre appello al consiglio di stato è quello che l'amministrazione fa e che stiamo analizzando vediamo allora che cosa dice il consiglio di stato che ripercorre tutto l'iter normativo non ci interessa noi andiamo alla qualificazione alla luce del suddetto quadro normativo delle concrete ragioni poste dall'amministrazione alla base del provvedimento di diffida impugnato in primo grado e delle censure svolte in giudizio l'appello è infondato e deve essere respinto quindi da ragione all'operatore economico cioè dice il comune ha sbagliato a procedere con la diffida perché ha sbagliato e qui entriamo nell'aspetto più interessante della sentenza tali censure articolate dal comune nell'atto d'appello non mirano a contrastare l'argomento per il quale il tar ha accolto il secondo motivo di ricorso di primo grado cioè il comune non impugna la sentenza di primo grado dicendo il giudice ha sbagliato né dimostra la sussistenza delle degli elementi a fondamento del proprio provvedimento impugnato in relazione all'autorizzazione ma piuttosto individua una ragione ostativa all'utilizzazione della procedura semplificata l'acronimo e pass diversa ed ulteriore da quello originariamente indicata quindi il comune fa una diffida non puoi installare gli impianti perché superi certi watt perde in primo grado impugna la sentenza di primo grado e dice no non importa quella motivazione comunque non avrebbe potuto installare gli impianti perché gli manca la paesaggistica un altro profilo perché gli mancano altri requisiti un profilo diverso cioè integra la motivazione di diniego in giudizio in appello in sede di consiglio di stato diversa ulteriore da quello originariamente indicata e quindi ad introdurre nel giudizio una inammissibile integrazione postuma della motivazione rispetto a quanto è enunciato nella diffida del 20 febbraio perché perché la possibilità di tale integrazione cioè di motivare il provvedimento per ragioni diverse da quelle dette nel procedimento amministrativo è stata in verità sempre esclusa dalla giurisprudenza amministrativa prevalente quindi c'è un orientamento centenario che dice l'amministrazione quando adotta un provvedimento deve motivare se viene impugnato in giudizio non può cambiare motivazione non può addurre altri motivi senza una motivazione anteriore al giudizio cioè nel procedimento verrebbero frustrati gli apporti o positivi o collaborativi del partecipante al procedimento che senso ha la partecipazione al procedimento se poi l'amministrazione in giudizio può dire no ma io ho altri elementi che non ti ho detto che ti fanno che non ti consentono l'attività però aggiunge un elemento importante che non va sottovalutato perché questo è una conferma come detto centenaria ma anche a seguito dell'introduzione da parte del legislatore al fine di alleggerire il peso dei vincoli formali e procedimentali dell'APA che si sarebbe voluta informata una logica di risultato è un richiamo esplicito al principio di risultato del codice dei contratti pubblici più che alla legalità formale dei singoli atti della regola della non applicabilità della misura caducatoria in presenza di riformità dello schema legale pensate alla omessa comunicazione di avvio del procedimento che non determina illegittimità dell'atto le pronunce che hanno ritenuto di fare applicazione della clausola di non annullabilità quindi le pronunce innovative che ritengono che i vizi formali non inficino l'atto amministrativo e quindi ammettono l'integrazione postuma in giudizio se è una mera irregolarità formale queste indirizzo non è rimasto diciamo non ha preso un carattere maggioritario sono rimaste sporadiche e isolate le sentenze che adottano questo orientamento in quanto l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è ben presto orientato nel senso che il difetto di motivazione del provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma e per questo costituisce un presidio di legalità sostanziale insostituibile nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo il provvedimento affetto da vizi non invalidanti quello che è stabilito nel 21 oxies comma 2 della legge 241 del 90 e si citano fra le tante ex plurimis vuol dire in latino fra le tante consiglio di stato e 2014 e altre sentenze delle varie sezioni non solo sezione terza sulla scorta di tal indirizzo giurisprudenziale la corte costituzionale ecco il richiamo alla corte ha anche dichiarato con l'ordinanza del 2015 la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proprio del 21 oxies comma 2 sollevata con riferimento alla costituzione perché motivandola con il fatto che la remittente chi aveva sollevato la questione di costituzionalità si era sottratta al doveroso tentativo di sperimentare l'interpretazione costituzionalmente orientata e quindi diciamo ammettendo che questo orientamento fosse conforme in più anche la giurisprudenza della corte di giustizia che qualifica la motivazione come forma sostanziale attenzione a questo inciso forma sostanziale e motivo d'ordine pubblico da sollevarsi d'ufficio implicitamente la sottrai dai requisiti meramente formali la nuova questione sollevata dal comune in relazione alla soggettabilità via dell'impianto per la rilevanza dei suoi effetti sull'ambiente non può dunque condurre che sarebbe la motivazione ulteriore che non c'era nel provvedimento iniziale non può dunque condurre in nessun modo all'annullamento alla riforma della sentenza impugnata questa giurisprudenza lo accenno si inserisce anche in un altro filone giurisprudenziale che ritiene legittimo il diniego fondato su una pluralità di motivazioni perché l'altra obiezione è ma l'amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento di diniego su più motivi te lo nego per abc certo perché anche se uno di questi fosse stato illegittimo il motivo legittimo comunque avrebbe conservato il provvedimento amministrativo allora l'invito pratico che viene fatto alle amministrazioni quando vi trovate di fronte a un diniego a un provvedimento negativo a un provvedimento interdittivo di qualunque genere nei confronti dell'interessato inserite tutti gli elementi motivazionali perché in questo modo salvate il provvedimento ed evitate di trovarvi nell'impossibilità di addurre queste motivazioni aggiuntive in sede giurisdizionale questo è fondamentale in aiuto a questo viene il 10 bis il 10 bis nei procedimenti a istanza di parte è stato proprio introdotto per consentire all'amministrazione di introdurre nel procedimento quindi prima del giudizio questa integrazione motivazionale in conclusione quindi l'appello viene respinto e il consiglio di stato lo rigetta condannando il comune alla spese che nel frattempo sono raddoppiate bene un ritengo interessante sentenza che è vero con solida un orientamento centenario ma allo stesso tempo ha aperto alcuni spiragli di ragionamento che sono utili per approfondire spero che siano jolly interessanti per voi arrivederci ci vediamo presto